Finalmente giunti ad un nuovo appuntamento con l'allegria della corrida, i nuovi concorrenti allo sbaraglio verranno lanciati nell'arena alla ricerca di trionfanti successi. Tra gli ospiti di questa puntata, Ornella Muti e Albano Eroni Paolo. Subito dopo entrerà in azione Elena. L'appuntamento della serata di Italia 1 è con Superstars of Wrestling, mentre Rete4 propone il film drammatico Karamazov di Richard Brooks con Yul Brynner e Marie Rochelle. Ma ora noi guardiamo la corrida. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Un grazie particolare direi al pubblico che affolla oggi il nostro studio, un grazie particolare al pubblico di questo sabato e un grazie particolare poi anche al pubblico del prossimo sabato. perché? Perché in questi giorni non si fa altro che parlare di partenza intelligente perché tutti partono, tutti vanno al mare o sono gli ultimi giorni da poter dedicare alle ferie. Noi abbiamo invece un pubblico che non si fa il pubblico. Noi abbiamo invece un pubblico che invece di fare la partenza intelligente rimane intelligentemente a Roma per assistere alla corrida e per godersi poi Roma perché poi gira e rigira. E' anche vero che Roma si gode proprio in questi giorni tutti sono tranquilli, si può circolare per le strade, sembra quasi di non riconoscere nemmeno Roma. Invece non la riconosciamo benissimo così come riconosciamo benissimo il maestro Roberto Pregadio. Anche tu intelligentemente che fai parti o rimani a Roma? No, no, preferisco in questo periodo proprio di traffico intenso rimanere a Roma. Rimanere a Roma, anzi approfittiamo di questa occasione per dire a tutti quelli che invece sono in partenza di andare piano, 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 piano. Anche se si arriva un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora dopo, purché si arrivi tranquillamente, d'accordo? E a questo punto presentiamo tranquillamente anche le nostre due ragazze che sono restate naturalmente a Roma, anche loro. Eleonora e Cristina! Buonasera, 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 buonasera. Come va? Beh certo, insieme fanno una bella figura, così. Beh dico, oh ragazze, voi siete rimaste a Roma, vi state godendo anche Roma, ormai è qualche mese che state a Roma, spero che abbiate anche apprezzato i romani. Vi fanno i complimenti, vi fanno. A me tanto. A te sì, che complimenti vi fanno, se si possono dire. Sì, si possono. Una cosa carina, c'era questo ragazzino, io camminavo per conto mio, c'era questo ragazzino che mi seguiva, aveva avuto 12-13 anni. E a un certo punto si prende forza, allora mi avvicini e fa scusi signorina. E gli dico, prego dimmi, si morde la mano e fa, se c'avessi 10 anni di più. Hai capito? Simpatico, vero? Eh ma quello comincia pure prima, sta tranquillo, mi grazie. Allora, a te invece i romani cosa dicono? A me i romani mi sembrano molto simpatici e spiritosi. Pensa, l'altro giorno io giravo e camminavo per una strada di Roma, no? E c'era questo palazzo in costruzione, c'erano degli operai di fronte che mi guardavano tutti così, dicevo, ma qua c'è qualcosa. C'era uno in particolare che rideva, a un certo punto lui, lui mi, dopo che sono passata, mi dice, ciao Biancaneve, ma ancora non l'ho capito. E beh, no, t'ha detto ciao Biancaneve, no, forse per dire che eri bella come Biancaneve, hai capito? Non ho capito, questo che voleva dire si era assito, che cosa voleva? Almeno che non fosse stato uno dei sette nani, che ne sai, non si sa mai, hai capito? Adesso al vostro posto, via, forza, presentiamo anche stasera i nostri baldi bravi, spero agguerriti i concorrenti, perché i concorrenti di questa sera sono... Lidia Virginia Davoli Elson Loffredo Paolo Gagliani Giacomo Baranello Bruna Pasciucco Giuseppe Rulent Giuseppina Gligerini Luciano Bignamini Nicola Diana Eccoli qua tutti e nove i nostri bravi concorrenti che si apprestano a... Beh, diciamo pure forse anche a sfidarvi, ma sanno di trovarsi di fronte ad un pubblico veramente caloroso, un pubblico entusiasta, un pubblico deciso a divertirsi insieme con loro, naturalmente. Eh... ti prego Eleonora Accorsi all'appello da cento contrade, stringendo nel pugno simboliche spade, saprete accettare con cavalleria i sì e i no della nostra giuria, sì o no? Sì! Bene, 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 bene E adesso naturalmente il giuramento lo dovrete fare anche voi, ma di questo se ne incaricherà come al solito Cristina. Grazie Corrado. Signori del pubblico, arrivano i nostri simpatici eroi, che sono anche i vostri. Giurate, possando la mano sul cuore, di rendere ad essi giustizia ed onore, sì o no? Sì! Bene, 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 eh... E a questo punto, naturalmente, come al solito, voglio ricordare a tutti la piccola regola del semaforo, è obbligatorio da parte mia ricordarvelo, cioè finché il semaforo è rosso, non esprimete alcun giudizio né positivo né negativo, poi il semaforo passa dopo un certo tempo al giallo, ma per pochi secondi, e poi finalmente al verde, e quando sarà verde allora potrete o applaudire. Quanto comporrete! 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 Il signor Giuseppe Rulente di Ciriè, Torino. Rulente! 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 O Rulente! 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 Senti, lei vive a Ciriè? Per l'esattezza Devesi, che è una frazione di Ciriè. È una frazione di Ciriè, ma insomma, Ciriè è in comune, comunque. E che cosa fa Ciriè? Io a Ciriè niente, lavoro a Torino, sono impiegato, presso un'industria aeronautica di Torino. Dunque, lei si presenta qua per... Il signor Erocarina, è piccola così, è piccolissima, è uno strumento piccolissimo. Però è di molto effetto. Sì, sì, è vero. Anzi, poi direi che è proprio il classico strumento popolare. Sì, esatto. Senta, cosa ci fa sentire? Io ho una polca romagnola, qualcosa di brillante, Sorbole che sventola. Sorbole che sventola? Sorbole che sventola. Dedicata alle nostre due ragazze, insomma. Sorbole che sventola e Leonora e Cristina. Vediamo un po'. Sentiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, il signor Giuseppe Rulenta ha lasciato come numero per il tirasomma di TV Sorrisi e Canzoni il numero 71. Non sarebbe così forse troppo lungo. Comunque siamo giunti quasi al finale, cioè al momento della premiazione. Abbiamo portato qui davanti a voi tre personaggi che hanno ricevuto applausi e dei dissensi. Io ve li voglio ricordare. Io ve li voglio ricordare. La signora Giuseppina Gligerini di Milano che ha ballato su un brano del gruppo Modern Talking. Adesso decidete voi a chi indirizzare i vostri applausi per proclamare il vincitore di questa puntata della corrida. Naturalmente ricordo che chi applaude un concorrente non può applaudire gli altri. Allora, per il signor Paolo Gagliani di Villanova Padova che ha mimato un uomo che chiede l'elemosina. Grazie. Grazie. Non vado avanti per una semplicissima ragione che direi il 98% del pubblico ha applaudito il signor Giuseppe Rulet di Ciria e Torino che quindi proclamiamo vincitore di questa puntata della nostra trasmissione. E adesso naturalmente sono rimasti in gara per l'assegnazione del secondo posto due concorrenti, cioè il signor Paolo Gagliani e la signora Giuseppina Gligerini. Adesso decidete chi volete dei due che sia classificato al secondo posto. Allora, c'è il mormorio, mi fanno, mi fanno, mi fanno, mi fanno, mi fanno, mi fanno, tu che fai, no, no, no. Allora, per il signor Paolo Gagliani di Villanova Padova che ha mimato un uomo che chiede l'elemosina. Grazie, basta così. Per la signora Giuseppina Gligerini di Milano che ha ballato su un brano del gruppo Modern Talking. Non ci sono dubbi neanche questa volta, il secondo posto viene assegnato al signor Paolo Gagliani di Villanova Padova. Ci congeniamo con la signora alla quale auguriamo naturalmente buona fortuna e voglio ricordare a tutti quanti che la corrida offre in premio al primo classificato un TV Color da 25 pollici, Fonola in major line e un videoregistratore Fonola e al secondo classificato, cioè al signor Paolo Gagliani, un TV Color Fonola 15 pollici portatile e schermo ultra piatto. complimenti anche a lei, molto bravo. A tutti quanti poi i concorrenti viene offerta una maglietta della corrida della Stefano e un orologio della corrida. Naturalmente a questo punto al signor Rulent di Ciriè, impiegato mi diceva presso un'officina aeronautica. No, un'industria. In un'industria, scusa. Ci sarà anche un'officina. Lo so, ci sarà anche un'officina in questa industria, ma comunque lei impiegato presso l'industria aeronautica, lei chiedo scusa. Rieseguirà Sorbole, prima avevamo detto che sventole, che sventola così è un po' più cortina, le chiedo scusa. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Bene, bravo, complimenti. E le dirò una cosa, signor Rulent, che c'era una signora che la accompagnava addirittura col tamburello. Io adesso mi chiedo come fa una a uscire di casa mettendosi il tamburello dentro la borsa. È una follia, ma comunque questo è il nostro pubblico. Arrivederla e complimenti, complimenti molto bravi. Arrivederla. E adesso devo dire che veramente tra poco assisteremo al trionfale ingresso delle nostre ormai famose coppie, lo vedremo, non finirà qui. Grazie. 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 Grazie.